Vuoi metterti in regola con il pagamento delle cartelle? Con la rottamazione terre, il saldo e stralcio, puoi pagare in misura agevolata e con rate fino a 5 anni per aderire ai tempo fino al 30 aprile 2019. Come? Presenta la domanda con il servizio Fai da te sul portale di Agenzia delle Entrate e Discussione, con la posta elettronica certificata o allo sportello. Per maggiori informazioni vai su agenziaentrateriscossione.gov.it